Buonasera, buonasera, ben ritrovati, nuova settimana sempre con voi, l'ultima settimana prima della pausa estiva con i nostri esperti per rispondere alle vostre domande. Come sempre il lunedì c'è l'esperto di pensioni, questa sera toccaremo Guerrini, buonasera Inas Cisle. Buonasera a voi. Allora, come al solito vi ricordo che abbiamo i telefoni aperti 0243-433-3434 oppure i vostri whatsapp al 335-5754-525. La notizia da cui parliamo questa sera è una buona notizia, che riguarda tutte le persone, i pensionati che hanno compiuto 64 anni. Esatto, quindi diciamo che finalmente diamo una bella notizia insieme a pensioni. Sempre brutte notizie. Esatto, quindi nel mese di luglio è stata erogata la quattordicesima, quindi una maggiorazione sociale, se ne sarà accorto qualcuno che consulta l'estratto conto bancario. Perché è già arrivata. È già arrivata, quindi primi di luglio è stata erogata per molti pensionati la quattordicesima, quindi un aumento, una maggiorazione sociale per tutti coloro che hanno compiuto 64 anni di età nel 2024 e che però hanno determinati limiti di reddito. Ecco, esatto, non è per tutti, se no adesso ha già... Sì, esatto, perché se no abbiamo... Ma io non ce l'ho. Esatto, quindi abbiamo dei limiti di reddito, come tutte le maggiorazioni sociali vengono erogate con degli scaglioni, dobbiamo rispettare dei limiti che vanno fino a 11.672.000 euro lordi per avere il primo taglio di somma aggiuntiva e 15.563 euro lordi, quindi il pensionato di 64 anni che non supera 15.563 euro lordi, ha la possibilità di avere la quattordicesima con il mese di luglio. Puoi dare una cifra mensile? Sì, certo, è molto interessante. Che così è più semplice perché esatto, lo capisco di più. È molto interessante perché la quattordicesima è proprio una maggiorazione sociale che è stata disegnata dal legislatore, non ha pioggia, quindi ci sono degli importi mensili che cambiano da tipologia di pensione a pensione, quindi andiamo da 437 euro, ma possiamo arrivare fino a 540 euro. Il massimo è 655 euro per coloro che hanno oltre 28 anni di contributi e un reddito al di sotto di 11.672 euro, quindi diciamo che la quattordicesima è una maggiorazione molto variegata. È possibile che il pensionato e il pensionato vicino non percepiscano esattamente lo stesso importo perché il legislatore ha creato un aumento proporzionale al numero di contributi che hanno dato origine alla pensione, quindi se io ho versato fino a 15 anni prenderò un taglio più piccolino, dai 15 ai 25 anni prenderò un taglio intermedio. Più ho versato più prendo. Più ho versato più prendo. Quindi è contributivo, è proprio un'esemplificazione del contributivo. Esattamente, quindi diciamo che questa maggiorazione non è a pioggia dello stesso importo per tutti, ma è disegnata in modo da premiare, fra virgolette, coloro che hanno versato un po' di più e coloro che hanno, fra virgolette, dei redditi un pochino più bassi. Quindi ci sono due varianti, il numero di contributi e fondamentalmente la tipologia di contributi dipendente autonomo e il reddito. La grande novità di questa maggiorazione, a differenza di tutte le altre, è che si guarda solamente il reddito del pensionato. Quindi se io sono sposato o sposata, il mio coniuge ha un reddito elevato e tipicamente questa cosa mi taglia le gambe per poter avere diritto degli aumenti, per la quattordicesima io... E sì, perché se sono 1.200 pensioni vai sempre oltre, insomma. Esatto, quindi diciamo che spesso e volentieri quando faccio il cumulo, si chiama così, in gergo tecnico, molti vanno fuori dai limiti. Ecco, diciamo che la quattordicesima il legislatore è andato a disegnare una maggiorazione proprio guardando solamente il reddito della persona del singolo pensionato. Quindi se il mio marito o mia moglie percepisce una pensione oppure ha un reddito molto alto, ecco questa cosa non influisce perché vengo guardato soltanto io. Ti faccio subito una domanda, tu hai detto che ha compiuto i 64 anni, quindi chi li compie ad agosto? Oppure già da luglio in poi, perché bisognava averli già compiuti entro la fine del mese. Ecco, questa è una bella domanda tipica che ci vengono a fare in ufficio al patronato della città. Che non è giusto uno nato a febbraio e uno nato a novembre, perché quello a novembre, no? E infatti c'è il ripescaggio, mettiamola così. Ecco, quindi diciamo che la condizione anagrafica è avere 64 anni. E' chiaro che i 64 anni un pensionato li può compiere da gennaio a dicembre. Se li compi entro il 31 di luglio, l'erogazione dovrebbe avvenire in modo automatico con la mensilità di luglio. Se invece li compio ad agosto, come facevi... Ah, quindi puoi anche non averli già compiuti, però devi compiirli entro il 31 di luglio per averla nello stipendio. Per averlo nel mese di luglio io devo compierli entro il 31 di luglio. Se li compio dopo, agosto, come hai fatto l'esempio, io avrò diritto alla 14esima, l'avrò però a dicembre, quindi mi devo ricordare di fare la domanda, il primo anno va fatta la domanda perché automaticamente non verrà erogata, però io la posso recuperare con il mese di dicembre, quindi c'è la possibilità di... Ah, ok, benissimo. E' intera? Sì. Ok, quindi non è che te ne danno metà l'anno? No, 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 assolutamente. Ok, va bene. E quindi questo va bene. Tu però hai dato uno scaglione di reddito che è abbastanza basso, no? Quindi allora veniamo tutti quelli che prendono un po' di più, se hanno qualche vantaggio oppure no? Allora, quelli che prendono un po' di più, c'è la possibilità di ottenere una quattordicesima ridotta, quindi diciamo che il legislatore si è inventato una possibilità di ripescaggio, oggi usiamo questo termine, di ripescaggio per coloro che superano il limite di reddito che ho dato prima, quindi 11.672 oppure 15.563. Se io supero di poco questo limite di reddito ho la possibilità di percepire la quattordicesima in misura ridotta, ossia la differenza fra il limite di reddito e la quattordicesima intera, quindi se non devo superare fondamentalmente il limite di reddito più l'importo intero della quattordicesima che verrebbe erogato. In questo caso ho diritto alla maggiorazione ridotta, è sempre una maggiorazione sociale, quindi è diretta a tutti coloro che hanno dei redditi fra virgolette bassi. Sì, certo, infatti l'hai chiamata maggiorazione sociale. È una misura sociale, esatto, è una misura sociale. Va bene, altra domanda, quindi un po' quelli che compiono dopo e poi ci sono le vedove, la reversibilità è compresa anche nella reversibilità. Assolutamente sì, la reversibilità... Aspetta, rispondiamo dopo, prima prendiamo la telefonata. Pronto, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno, sempre per conto vorrei parlare con gli esperti delle pensioni. Prego, dica. Allora, io volevo sapere, per la quattordicesima... Sì, prego, è in diretta, parli. Ah, scusi, no, non sentivo. Abbasso il televisore. Brava, brava. Abbasso il televisore e faccia pure la sua domanda. Ok, ascolti, io sono andata al CAF per chiedere per la quattordicesima, ma mi hanno detto che a me non mi aspetta e non mi aspetterà mai. Perché supera il limite di reddito? No, anche perché, ascolti, io ho fatto l'ISEE, ho 15.155 l'ordine. Ma che pensione ha? Ho la reversibilità di mio marito. Perché non l'aspetterà mai? Non lo so, ma adesso che non mi aspetterà mai. Ma non le hanno detto perché? No. Allora, facciamo così. Facciamo in questo modo, anche perché è chiaro che poi ogni situazione è necessario verificarla in modo attento e preciso. La reversibilità, come mi domandavi proprio questo, la reversibilità è una pensione che dà diritto alla quattordicesima. Chiaramente è riproporzionata, bisogna guardare, dato che vi raccontavo che la quattordicesima è legata al numero di contributi, alla tipologia di contributi, si guardano quelli del coniuge deceduto, chiaramente, e poi la quattordicesima viene riproporzionata, così come anche la reversibilità è un importo riproporzionato. Detto questo, però, il fatto di essere titolari di reversibilità non ostacola, non è ostativo per poter percepire la quattordicesima. Il reddito che si guarda non è quello dell'ISE, quindi mi raccomando. Quindi hanno sbagliato al CAF. Quindi probabilmente il CAF che le ha dato questa informazione non si è spiegato correttamente, oppure insomma avete fatto un po' di confusione. Quello che bisogna guardare per aver diritto alla quattordicesima, quindi il famoso reddito che lei ho visto che lo sa, 15.563 da non superare, non è l'ISE, è quello del 730, oppure quello del modello numico. Deve guardare quello, signora. Esatto. E il fatto che io per ora il 730 non lo faccio. E allora deve guardare la CU, signora. Ah, ok. Il CUD. Deve guardare il CUD, allora. Lo conosciamo tutti. Lei faccia così, prenda il CU, io lo chiamo ancora CUD, e lo porta al CAF e vediamo cosa le dicono. Assolutamente, lei si segni che la quattordicesima spetta anche ai titolari di reversibilità. Il limite di reddito è 15.563, però non è fisso perché c'è la quattordicesima ridotta. Lei va con la CU, si fa controllare la CU. Se con la CU è sotto questo limite qui, quanti anni di età? Cioè, ha 64 anni, vero no? Io sì, sì, ha 68. No, vada, faccia un salto dai, che probabilmente vi siete capiti ma... Però scusami, lei, certo ancora non è arrivato perché è fine luglio, non l'ha visto. Probabilmente, lei faccia un salto perché se lei non fa il 730, l'Inf non conosce i suoi redditi. Quindi tutte queste automatizzazioni che vengono fatte sono legate al fatto appunto che vengono compilati i modelli 730, i modelli fiscali e i modelli RED. Se il pensionato non fa il 730 e non fa il modello RED, l'Inf non conosce. Il RED lo faccio tutti gli anni. Lo fa perché ha la reversibilità. E guardi, meriterebbe un approfondimento e bisognerebbe capire il motivo per cui non percepisce questa maggiorazione. Faccio un salto, magari è patronato della Cisla. Ecco, visto che Guerri lavora per la Cisla, venga da noi che la vediamo bene, non si preoccupa. Grazie signora, grazie. Allora, poi mi scrivono, ho 69 anni, lavoro ancora, ho chiesto il supplemento a 67, se smetto di lavorare posso chiedere ancora il supplemento, devo aspettare 5 anni dopo il primo, io non capisco. Eh, questo è una bella, questo telespettatore è preparato. Eh sì, io non capisco niente, potrei aver letto una domanda in arabo, che sarebbe uguale. Eh, ma i nostri telespettatori sono proprio precisi. Eh sì. Allora, diamo una risposta che serve però a tutti. Sì. Allora, che cos'è il supplemento? Il lavoratore che va in pensione. Chi c'è in linea per favore aspetti, facciamo prima da rispondere, poi la persona che è in linea gli rispondo, ma aspetti a parlare. Perché questa la dobbiamo capire bene, perché ci sono tanti telespettatori che hanno questa situazione e non la fanno valere. Allora, quando io vado in pensione, a un certo punto io cesso di lavorare, mi arriva la pensione da parte dell'Inps. Dopodiché io posso continuare a lavorare. La gran parte delle pensioni oggi permettono di continuare a lavorare senza problemi. Non tutte. Quindi prima di iniziare a lavorare andate al patronato a verificare che non ci siano problemi. Però se io poi continuo a lavorare, come il nostro telespettatore, verso ancora dei contributi. E cosa faccio? Li butto via quella roba lì? No. Cioè quindi io periodicamente posso aggiungere alla mia pensione quello che ho versato dopo. Si chiama supplemento. Però non è che lo posso fare ogni volta che voglio. Ci sono dei termini da rispettare. Lo posso fare ogni cinque anni. Quindi io vado in pensione e ogni cinque anni faccio la domanda tramite il patronato per ottenere l'adeguamento della pensione con i contributi in più. Quindi si sommano i contributi che io ho versato dopo. E una sola volta nella vita lo posso fare dopo due anni. Se ho compiuto l'età pensionabile. Quindi 67 anni. Il giochino è così. Quindi io ogni cinque anni posso chiedere. Venite da me. Io vi faccio la domanda e vi chiedo di aggiungere quello che avete versato dopo. Non mi interessa se avete fatto dei lavori a basso reddito. Perché voi la pensione non la ricalcolate tutta. La pensione ormai è calcolata, è stabilita. Ormai è stabilita. Tutto quello che fate dopo aggiungete. Quindi tutti coloro che hanno fatto dei piccoli lavoretti dopo la pensione si aggiunge tutto. Non abbiate paura a venire al patronato per fare questa pratica. Va bene. Vediamo se c'è ancora il telespettatore. Pronto? Pronto? Buonasera. Come si chiama? Buonasera. Mi chiamo Michele. Michele prego. Dica. Allora, mia moglie è un anno che è in pensione, con 22 anni, ha 68 anni mia moglie. Abbiamo notato che lei la quattordicesima non l'ha presa. È giusto? Quanto percepisce di pensione la moglie? 614 euro al mese. Aspetti che facciamo il calcolo in diretta e vediamo se l'aspetta. Allora, bisogna guardare il lordo, perché ricordiamoci che noi facciamo sempre ragionamenti. Noi ragioniamo sempre con il netto, ma in realtà loro ragionano con l'ordo. Grazie per il loro. Sì, loro gli esperti. Invece noi, dipendenti, pensionati, guardiamo sempre la cifra. Allora, noi dobbiamo guardare il lordo. Detto così, secondo me ci sta dentro, perché potrebbe stare assolutamente dentro la soglia dei 15.500. Faccio un salto al patronato e adesso le do anche una bella notizia, perché la maggiorazione sociale, la quattordicesima, è una delle poche maggiorazioni sociali che se non sono state erogate, avete la possibilità di chiedere gli arretrati fino a 5 anni. Quindi fondamentalmente se lei va al patronato della CIS, lo dice che ha visto la trasmissione e fondamentalmente va col 730 però, o i Q del CU della moglie, da quando è andata in pensione in avanti, se andiamo a controllare tutti i limiti di reddito da quando è andata in pensione e se non ha percepito, come dire, la quattordicesima, anche per tutti gli altri telespettatori, si può andare indietro a recuperare le mensilità fino a 5 anni. Quindi insomma, riusciamo a recuperare qualcosina. Grazie. Va bene, io la ringrazio. Grazie a lei. Allora, facciamo così, ci fermiamo qualche istante lì nella regia, poi tornate qui, cioè restate con noi che continuiamo a parlare di pensioni. A tra poco. Ben ritrovati, allora stiamo parlando con Remo Guerrini in Assacisla della quattordicesima ai pensionati che hanno 64 anni, almeno 64 anni e determinati i limiti di reddito che abbiamo spiegato. Due domande. Uno, chi ha la pensione di invalidità rientra in chi la prende? No, diciamo che la quattordicesima, quindi questo specifico aumento, è legato solamente a coloro che hanno una pensione che è generata da contributi. Quindi l'invalidità civile tipicamente non è legata al versamento contributivo e quindi non beneficia di questo tipo di aumento. Ci sono altre modalità per poter avere degli aumenti sulle invalidità civili, però fondamentalmente sono sempre legate ai redditi, però per quanto riguarda la quattordicesima dobbiamo essere agganciati a una pensione che nasce da un versamento contributivo oppure una reversibilità sempre legata. Perché anche lì c'è stato un versamento a monte. È certo, è certo. Invece nel caso dell'invalidità no. Senti, a proposito di reversibilità, spieghiamo e ci attacchiamo anche al discorso che ha fatto la telespettatrice che ha chiamato prima, rispieghiamo cosa succede alla reversibilità a una vedova, normalmente sono le vedove, però non voglio fare quote rosa o quote azzurre, nel caso di un vedovo come funziona se chi rimane in vita ha un reddito, ha una professione, come funziona la reversibilità? Allora, la reversibilità è la pensione che spetta al coniuge oppure ai figli, ci sono anche delle determinate… Ah, poi spieghiamo anche i casi dei figli. Esatto, ci sono anche dei casi in cui la reversibilità spetta anche ai figli oppure solo ai figli, al coniuge superstite, tipicamente la reversibilità viene richiesta dal coniuge superstite. Sì. Non è una pratica banale, quindi anche per questo affidiamoci al patronato, perché? Perché proprio nei casi in cui il vedovo o la vedova continua a lavorare, oppure ha dei redditi propri, ha la sua pensione, può essere che ci sia il vedovo o la vedova che oltre alla reversibilità ha la sua pensione… O ha la sua pensione o ha il suo reddito del lavoro. O ha il suo lavoro, lavora ancora come dipendente, come autonomo. Ecco, la reversibilità è una pensione che è molto sensibile al reddito del vedovo e della vedova, quindi subisce il primo, come dire, la reversibilità è il 60% della pensione dell'anticausa. Quindi se il marito che non c'è più prendeva 1.000 euro, alla vedova ne spettano 600. Assolutamente. Intanto partiamo da lì. Quindi partiamo da lì, la reversibilità è il 60% se parliamo di coniuge. Poi a questo va sottratto… Poi a questo vanno fatti degli abbattimenti, degli abbattimenti in funzione del reddito della vedova e della vedova. Se il vedovo e la vedova non hanno altri redditi oltre la reversibilità, quei sui 600 euro, quindi il 60%, spetta in misura intera. Se invece io ho degli altri redditi, ci sono proprio degli scaglioni stabiliti dalla legge, magari li possiamo vedere in un momento specifico, in cui io ho dei tagli che possono arrivare fino al 50%. A seconda di quanto prendo io come pensione o come reddito da lavoro? A seconda del reddito della vedova o del reddito personale, evidentemente, io posso avere dei tagli ed è il motivo per cui la signora che ci ha chiamato prima annualmente fa il modello REDD. Perché? Perché chi ha la reversibilità ogni anno deve andare al CAF per fare la dichiarazione REDD per focalizzare e certificare i redditi che ha avuto nell'anno prima, perché così l'Inps è sicura della tua posizione reddituale e se io devo avere degli abbattimenti oppure dei conguagli, anche positivi, perché se io facevo la dipendente e poi vengo licenziata oppure finisco il mio rapporto di lavoro a termine, il mio reddito ogni anno va fatto il reddito. Per dimostrare che o che non si è percepito niente o quanto si è percepito. O quanto si è percepito, proprio per determinare in modo esatto la percentuale dell'eventuale taglio della reversibilità. Ecco, tu hai parlato di vedova ma anche i figli, quando i figli hanno diritto alla reversibilità? Se sono figli minori, quindi pensiamo alla vedova o al vedovo con dei figli minori, in questo caso ci sono delle quote il 20%, quindi il 60% alla vedova e il 20% per quanto riguarda i figli, non è detto che debbano essere per forza minori perché se abbiamo un figlio maggiorenne inabile, anche in caso di inabilità, io non guardo più il discorso dei 18 anni, quindi diciamo che i casi tipici di diritto alla reversibilità sono in caso di coniuge con figli, quindi figli minori. Quindi se c'è un figlio minore, al figlio minore spetta una reversibilità sempre? Assolutamente, il 20%, assolutamente sì. Ho capito. Va bene, c'è una telefonata, la prendiamo, pronto? Sì, buonasera. Buonasera, dica. Diciamo, Giuseppe, voglio fare una domanda all'esperto. Prego. Volevo capire se è vero quello che ho sentito, che una persona che è miliardaria, che è ricca diciamo, però ha problemi di invalidità e cosa fa? Fa domanda di accompagnamento e loro glielo accettano, ma è vero che anche essendo ricco prende l'assegno lo stesso. Grazie e saluti. Cioè l'assegno, eh sì, l'accompagnamento spetta a tutti o a solo chi è sotto un certo reddito e la traduco? Allora, questa è un'altra bella domanda, però rispondiamo in modo preciso perché così almeno non facciamo confusione. Qui ci addentriamo nella sfera socioassistenziale, quindi mentre prima parlavamo di pensioni che hanno dato, che sono legate al versamento di contributi, quando parliamo di invalidità di accompagnamento, parliamo di misure assistenziali che lo Stato eroga tramite l'Inps, ok? Quindi l'Inps è semplicemente chi eroga e chi fa le visite, insomma, per la misura. Se io ho tutte delle percentuali di invalidità che vanno dal 74 al 100%, per ottenere le prestazioni di invalidità civile, si chiamano così, io guardo il reddito, ok? Quindi se sono miliardario, come dicevo, non mi danno assolutamente nulla. Per l'indennità di accompagnamento, quindi diciamo che è il gradino superiore al 100%, è come se fosse l'accompagnamento è il 101, è colui che non... E sono le persone che non sono in grado di vivere da soli, che hanno bisogno di una persona che stia in casa con te, che ti accompagni fuori, eccetera. Esatto, sono quelli che non possono deambulare, non riescono a compiere gli atti quotidiani della vita da soli. Per l'accompagnamento e solo per l'indennità di accompagnamento non si guarda il limite di reddito. Quindi il miliardario gli aspetta. Però si guarda un'altra cosa, se il miliardario è ricoverato oppure no a titolo gratuito. Quindi se io sono un soggetto, un cittadino italiano, anche con una capacità economica, che però sono già preso in carico, per esempio da un ospedale, da una struttura, da un ricovero in modo gratuito, l'accompagnamento non viene erogato. Quindi diciamo che c'è questo tipo di condizione. Se invece è a casa, sì. Se invece è a casa, sì, assolutamente. Quindi anche se è miliardario. No, hai risposto in maniera puntuale. Senti, quando tu parli del fatto che il vedovo, il coniuge è sopravvissuto, bisogna guardare il reddito. Cosa rientra nei redditi? Cosa ci fa calcolare il reddito? Allora, il reddito, la casa di abitazione non si guarda. Ok. Quindi diciamo che... La prima casa. Esatto, la prima casa, la casa di abitazione, tranquillizziamo questa cosa. Non è un reddito. Poi, dato che parlavamo di quattordicesima, un altro reddito che non si guarda per il limite degli 11.000 e dei 15.000 è l'indennità di accompagnamento di cui abbiamo parlato adesso. Se io sono... Dato che devo guardare il mio reddito personale, oltre alla mia pensione, se ho la casa di abitazione, la prima casa e anche l'indennità di accompagnamento che è di 500 rotti euro, questi due redditi io non li guardo per il diritto alla quattordicesima. Quindi diciamo che fondamentalmente si guarda tutto il resto. Telefonata rapida, pronto? Scusi, io volevo parlare con il... Sì, prego, è indiretta. Posso parlare? Parli. Io volevo chiedere l'informazione al detto lì alla televisione. Sto guardando la televisione. Sì, signora, è indiretta. Dica quello che vuole. Ecco, io volevo sapere, io ho due anni che è mancato mio marito e mi aspetta dei soldi e mi hanno detto la Cisca che ci vuole cinque anni prima che mi dia questi soldi. Ecco, hanno tempo, cinque anni per darmi questi soldi, è vero? Grazie signora. È un rimborso, parliamo di un rimborso fiscale quasi sicuramente. Ed è vero. Ed può essere vero. Bisogna guardare il caso specifico. Se gliel'han detto la Cisca mi sento di dire che sono molto precisi. Che avevano fatto bene. Però questa domanda, il fatto che lei dice, vedova, al marito aspettavano dei soldi, mi hanno detto che dovevo aspettare cinque anni, probabilmente non è la pensione, probabilmente è un rimborso fiscale o un credito fiscale che aveva diritto il marito e che non può essere erogato su di lei, ma bisogna seguire i tempi dell'agenzia dell'entrata. Velocemente, buonasera. Mia moglie ha presentato con il CAF Ape Sociale alla fine di marzo e mi hanno detto che la risposta arrivava entro tre mesi, ma non è arrivato niente. Siamo entrati con lo speed nell'Inps e dice che è in lavorazione. Cosa dite? Che sono in ritardo? Diciamo che sono in ritardo e che può andare al patronato, non al CAF, per verificare lo stato della pratica e sollicitare. Altra domanda. Buonasera, percepisco pensione di inabilità lavorativa 100%. Posso fare un lavoro part time con tetto di reddito? No, qua lei va al patronato e fa vedere bene le carte, perché l'inabilità lavorativa è incompatibile col lavoro. L'invalidità è... Stiamo attenti, perché poi magari... Eh no, le tolgono tutto. Eh sì, quindi stia attento, lei va al patronato, venga da noi senza problemi, viene con il documento che le ha mandato l'Inps quando è andato in pensione, così verifichiamo esattamente se è inabilità o invalidità lavorativa, perché le condizioni sono differenti. Eh certo, va bene. Abbiamo rubato un minuto al calcio, ma non importa. Grazie a Remo Guerrini, a questo punto noi ci vediamo a settembre, perché la trasmissione si ferma per la pausa estiva, quindi Remo tornerà a trovarci. Vi ricordo che saremo in onda all'ora di pranzo. Intanto vi saluto e dopo di me c'è Michele Marchetti con Anteprima Nova Stadio. Ciao.